Musica Andiamoci al lavoro Grazie Grazie Voltare a sinistra Alla rotatoria prendere la seconda uscita Uscire adesso Alla rotatoria prendere la terza uscita Uscire adesso Alla rotatoria Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Andate Alla rotatoria Alla rotatoria Alla rotatoria Alla rotatoria Andate Alla rotatoria 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 Grazie a tutti. 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 Voltare a sinistra. Grazie a tutti. Andare dritto. Riorientamento. Andare dritto. Grazie a tutti. Voltare a sinistra. Alla rotatoria. Prendere la prima uscita. Uscire adesso. Prepararsi. Voltare a voltare a voltare a voltare.